Covid in classe, ecco cosa succede. Amministrative 2021, il segretario Tosiani spera nel candidato unitario. Le condizioni sembrano esserci. Le botteghe storiche sbarcano sul web. Ferrari educati, due mondi lontani. Buongiorno dal GRD in Cronaca, in studio Medea Calzana. Apriamo con la scuola. Tamponi, quarantena preventiva e quarantena effettiva. Le linee guida dell'ASL spiegate in breve nel servizio di Matilde Gravili. Dall'inizio delle scuole, 54 alunni sono risultati positivi al coronavirus e due classi sono state messe in quarantena. Ma come funzionano i protocolli imposti dall'ASL di Bologna in caso di positività? Il protocollo viene attuato se il bambino si sente febbricitante, viene immediatamente portato nell'aula Covid e gli viene misurata la temperatura. In caso di febbre, vengono allertati i genitori che sono obbligati a portarlo a casa e a contattare il pediatra. Il medico lo può tenere in osservazione per 48 ore o fargli fare subito il tampone. Se negativo, l'alunno potrà tornare in classe. In caso di positività, viene segnalato e preso in carico dall'ASL e tutta la sua classe verrà messa in quarantena preventiva. Nel caso in cui i tamponi siano tutti negativi, si può tornare in classe senza problemi, mentre se positivo, per altri alunni, allora gli scatterebbe la quarantena vera e propria, sempre per tutti. Al termine di essa, viene rifatto il tampone. A quel punto, gli alunni negativi potranno tornare in classe, mentre i positivi rimarranno a casa. Per quanto riguarda i genitori, ci sono due vie. Se il figlio è positivo, allora dovranno sottoporsi al tampone e vivere in ambienti isolati dal figlio. Se il ragazzo è negativo, ma è venuto a contatto con un compagno positivo, il tampone e la quarantena non sono obbligatori per i genitori. Passiamo ora alla politica. Luigi Tosiani, segretario provinciale del PD, ha espresso il desiderio di avere entro Natale un candidato unitario per le elezioni amministrative 2021. Ce ne parla Federica Nannetti. L'auspicio è che si arrivi a un candidato unitario, fonte di forza per il Partito Democratico. Democratico. Le condizioni sembrano esserci. Sono le parole di Luigi Tosiani, segretario provinciale del PD, che, ospite al salotto di Patrizia Finucci Gallo, si è definito un playmaker. Come tutti i buoni registi, deve dirigere la squadra e dettare i tempi di gioco. La previsione, in caso di candidato unico e di un contesto sanitario favorevole, è di avere il nome entro Natale. A questi spunti, usciti dall'hotel Guercino in Bolognina martedì sera, si sono aggiunti chiarimenti sulle discusse accelerazioni dei presunti candidati. Tutti si stanno riconoscendo nel percorso con responsabilità e la discussione ha legittimamente prodotto idee, ha detto Tosiani. L'importante è non creare frattura all'interno del partito. Il segretario ha anche colto l'occasione per sollevare le tre priorità che vorrebbe vedere in cima al programma elettorale del nuovo sindaco. La lotta alla diseguaglianza, una svolta ambientale che sappia radicare nelle persone questa sensibilità e un investimento sulla cultura. Il modello a cui guardare è quello delle regionali 2020, proposto dal presidente Stefano Bonaccini, e proprio per questo non è possibile precludere un confronto con le altre forze di sinistra, dall'esperienza di Coraggiosa a quella di Volt, con il movimento 5 Stelle, ma nemmeno con una figura come quella del presidente dell'ASCOM, Giancarlo Tonelli. In mancanza di accordo su un candidato unitario, l'alternativa sarebbe quella delle primarie, non certo metropolitane, dato che lo statuto non le prevede, ma il segretario si è detto favorevole a quelle di coalizione, a patto che ci sia l'interesse di tutti gli alleati. Dunque ancora nulla di deciso, ha concluso Tosiani. Economia. L'eurodeputata PD Elisabetta Gualmini d'accordo con la proposta della collega tedesca Ghese per destinare risorse per il recovery fund all'incremento dell'occupazione femminile. Ce ne parla Francesca Chiamenti. La questione di genere deve essere trasversale a tutte le politiche dell'Unione, spiega Elisabetta Gualmini, eurodeputata PD, dichiarandosi d'accordo con la proposta della collega tedesca Ghese di destinare parte dei fondi del recovery fund all'incremento dell'occupazione femminile. Proposta che proprio ieri è stata accolta dal premier Giuseppe Conte, che ha parlato di agevolazioni per le donne e madre lavoratrici, come la creazione di un assegno unico universale per ogni figlio a carico, una riforma fiscale e il potenziamento dell'accesso ai servizi per la prima infanzia. Serve una terapia shock, ha aggiunto la Gualmini, perché l'occupazione femminile si è ridotta al 48% e siamo sotto di 12 punti alla media europea. L'eurodeputata ha poi ribadito l'importanza di investimenti nel settore della cura, che vanta un alto tasso di lavoratrici donne. Fondamentale poi, in periodo di smart working, aiutare le lavoratrici a mantenere un equilibrio tra il lavoro e la famiglia. Per questo, in Commissione europea, si sta lavorando a una direttiva sul diritto di disconnessione. Se non approfittiamo di questa gigantesca mobilitazione di risorse, conclude infine la Gualmini, per smontare e rimontare il welfare e indirizzarlo a favore delle donne, avremo perso la scommessa. Continuiamo con l'economia. Approvato il nuovo bando sull'attrattività degli investimenti, si punterà sulla sostenibilità e sul lavoro. Il servizio è di Elisa Toma. Rendere l'Emilia Romagna una regione capace di attrarre investimenti ad alto contenuto di innovazione, sostenibilità ambientale e, soprattutto, in grado di generare occupazione. Con questo obiettivo, l'Aggiunta regionale ha approvato il nuovo bando sull'attrattività degli investimenti. Sul tavolo ci sono risorse disponibili per 15 milioni di euro complessivi. 12 di questi, 4 per il 2021 e 8 per il 2022, rientrano nella programmazione regionale dei fondi europei per progetti che dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2022. Sosteniamo la ripresa investendo sulla qualità che l'Emilia Romagna è capace di esprimere, commentano il presidente della regione Stefano Bonaccini e l'assessore regionale all'economia e al lavoro Vincenzo Colla. Uno dei criteri principali per ottenere finanziamenti sarà dunque l'impatto occupazionale, cioè i posti di lavoro previsti, e si punterà inoltre sulla sostenibilità con la premiazione dei progetti di investimento che sapranno tutelare meglio l'ambiente. Presentato nella sede di Ascom, il sito di e-commerce Dream, portale per l'acquisto online delle eccellenze bolognesi. Il servizio è di Giulia D'Argenio. Portare le botteghe storiche di Bologna nel futuro è l'obiettivo del sito e-commerce Dream. Un campanello che suona in positivo lo ha definito Giancarlo Tonelli, presidente dell'Associazione dei Commercianti Felsinei, durante la presentazione del progetto che ha già messo in rete 7 delle storiche botteghe cittadine. Si tratta di un portale per la spesa online che punta a costruire un'alternativa, in un mercato dominato dalla grande distribuzione. Pagamenti online e consegne gratis fino al 31 ottobre. Dal 1 novembre la consegna a domicilio sarà gratuita, sopra i 20 euro di spesa. Come ha spiegato Roberto Melloni, cofondatore di Dream, il costo sostenuto dai clienti per ricevere la spesa a domicilio non andrà nelle casse del portale, ma sarà utilizzato a beneficio dei fattorini, che fanno a capo alla cooperativa bolognese UBM. Le spese per il web marketing e le consegne sono a carico del progetto, che punta a estendersi anche alle zone periferiche di Bologna e altre città italiane. Dream è un'intuizione che nasce osservati comportamenti maturati dai consumatori in quarantena. Tra marzo e maggio le vendite online sono cresciute del 26% rispetto al 2019, con un più 50% nell'agroalimentare. È una tendenza irreversibile e le attività storiche di Bologna non possono rimanere indifferenti. Le botteghe, con le loro eccellenze, hanno reso la città celebre nel mondo. Per questo, l'iniziativa che punta alla loro promozione ha riscosso il pieno appoggio di Palazzo d'Accursio. Lo ha affermato l'assessore al commercio Roberto Aitini, che, in conferenza stampa, ha espresso grande apprezzamento per un progetto in accordo con l'orientamento dell'amministrazione. Passiamo ora ai motori. Mentre la Ferrari fa i conti con un'annata terribile, la Ducati si gioca il mondiale, con Dovizioso comunque già sicuro di cambiare sella a fine stagione. E domenica si torna già in pista. Il servizio di Marco Alessandri. La rossa non va, le rosse sì. Nel weekend in cui Hamilton guaglia Schumacher nel numero di vittorie, 91, la Ferrari si lecca l'ennesima ferita, con solo Leclerc, capace di raggiungere la zona punti. Una stagione iniziata male e continuata peggio per il cavallino, le cui uniche certezze a oggi rimangono i piloti. Il monegasco, infatti, continua a mostrare numeri da fenomeno, mentre cresce la fiducia verso Sainz, che dal 2021 andrà a sostituire a Vettel. Vi è un campione del mondo e spazio a una seconda guida meno ingombrante, scelta che assomiglia molto a ciò che fece la Mercedes affiancando Bottas a Hamilton. Diametralmente opposta, invece, la situazione in Ducati. La casa di Borgo Panigale ha un pilota in corsa per il mondiale, Andrea Dovizioso, mentre il secondo, Danilo Petrucci, ha trionfato domenica scorsa a Le Mans. Nonostante questo, i due italiani vivono un destino contrario a quello dei colleghi ferraristi, con la Ducati che ha già scelto quelli che saranno i nuovi volti per la prossima stagione, Jack Miller e Francesco Bagnaia. Ecco perché, soprattutto per Dovizioso, vincere può diventare l'occasione per prendersi più di una rivincita. E con questo è tutto, un saluto dal GRD in Cronaca.